ciao da absim oggi voglio parlarvi di un modo per risparmiare sui vostri abbonamenti chi di noi non spende decine di euro al mese per vari abbonamenti a vari servizi quelli per lo streaming video musicale quindi lo svago quelli per la sicurezza online per la produttività e quindi a casa e in ufficio insomma tanto tanto da spendere tanto da investire ogni mese con abbonamenti che a volte sono individuali e consentono però l'utilizzo contemporaneo su più dispositivi ma questo utilizzo contemporaneo non lo sfruttiamo altre volte si tratta di abbonamenti famiglia e anche lì difficilmente sfruttiamo tutti gli slot a disposizione quindi oltre a quanto spendiamo quanto sprechiamo ogni mese quanto potremmo risparmiare o addirittura guadagnare condividendo gli abbonamenti e chi ci offre questa opportunità questa possibilità è go split e gamsgo che fanno parte della stessa azienda e della stessa famiglia due servizi diversi di cui vi vado a parlare di cui torno a parlarvi ovviamente io ve ne parlo come affiliato quindi ho dei ricavi sulle vostre interazioni se entrate in questi servizi e li utilizzate ma sono molto felice sono molto contento di potervi parlare di questi servizi perché ci credo li sto utilizzando e funzionano e sono davvero molto utili per ognuno di voi e quindi spero che siate davvero tanti a voler sfruttare questa opportunità di risparmiare mensilmente da subito sugli abbonamenti che comunque utilizzate o su quelli che avete intenzione di utilizzare ma che fino adesso non avete utilizzato perché non volevate spendere tutti quei soldi a parità di spesa potete avere più abbonamenti e quindi entrare anche in servizi che possono farvi bene che possono farvi stare bene che possono darvi qualcosa di utile e che fino a questo momento non utilizzavate oppure semplicemente risparmiare su ciò che già utilizzavate in particolare parliamo anche di da zone di now tv di sky e quindi di quegli abbonamenti costosi ma necessari perché se no dove le guardiamo le partite e allora per voi che siete soprattutto tifosi di calcio parliamo di questo cominciamo con gansgo che non offre la possibilità di condivisione degli abbonamenti calcio ma altri servizi molto utili come funziona gansgo gansgo funziona che la piattaforma acquista degli abbonamenti famiglia dopodiché li mette a disposizione di voi utenti quindi voi non andate ad acquistare l'abbonamento non andate a condividere la password non andate a condividere l'utenza non andate a condividere sostanzialmente nulla entrate in famiglie virtuali che vengono create da gansgo quindi gansgo si abona a questi servizi con abbonamenti famiglia una serie di abbonamenti famiglia e voi potete prendere lo spicchio che vi interessa e in particolare questo sistema funziona soprattutto con netflix netflix ci consente infatti la visione contemporanea su più dispositivi con gansgo potete entrare in questi abbonamenti famiglia già creati per voi e prendere la vostra il vostro profilo creare il vostro profilo associato al vostro nome con il vostro indirizzo email naturalmente quello che dovete fare dopo essere entrati in gansgo quindi dopo aver pagato il vostro spicchio rinnovandolo poi mensilmente o per quello che volete non ci sono vincoli è utilizzare il vostro profilo tralasciando quello degli altri che tendenzialmente non conoscete perché l'associazione vi è fatta diciamo anche un po random però c'è un sistema di affidabilità basato sulle interazioni all'interno della piattaforma per cui garantisce l'affidabilità degli utenti e quindi potete fidarvi non c'è solo netflix ma dal primo link in descrizione potete quindi entrare tramite me in gansgo e trovate anche il codice per avere subito il 5 per cento di sconto sull'abbonamento su netflix che già di per sé costa davvero poco oltretutto potete davvero divertirvi perché si risparmia di più anche su questo ad avere un abbonamento per un intero anno o per più mesi per risparmiare e star tranquilli e vedere l'effetto che fa di abbonarvi al prezzo di un singolo mese o di pochi mesi per un intero anno e non c'è solo netflix ma anche altri servizi che andiamo a vedere ecco la schermata di gansgo e questa è la schermata principale dove potete vedere i servizi a cui potete abbonarvi come vedete c'è netflix proviamo a vedere intanto ci sono tante icone che si muovono perché sono gli utenti che stanno entrando in questi servizi che stanno entrando nelle famiglie se noi andiamo su netflix ecco che cosa ci compare 4 euro e 33 al mese spiega tutto quindi è tutto spiegato come funziona si tratta nello specifico tra l'altro del piano abbonamento 4k ultra hd quindi il miglior piano di abbonamento di netflix poi ci sono anche altre altre piattaforme che sono comunque consigliate andandovi a descrivere ecco cosa potete fare invece di 79 e 99 per 12 mesi pagate 3 euro e 99 al mese addirittura quindi risparmiate ulteriormente inserendo il codice promozionale che ho indicato in descrizione andate a risparmiare ulteriormente questo è per avere un profilo condiviso su sui 6 o comunque sui 5 o 6 che sono a disposizione per il piano netflix se volete potete anche prendere 5 profili tutti per voi e poi utilizzarli come volete e ovviamente il prezzo per 12 mesi o per 6 mesi cambia risulta esaurito quello per 3 mesi perché dipende anche dalla disponibilità quindi andate più più volte su su gamsgo per vedere qual è la disponibilità di profili condivisi e fate la vostra scelta questo per quanto riguarda netflix abbiamo anche spotify per esempio che costa soltanto questo perché andate a vedere c'è 12 mesi spotify invece di 49 77 lo pagate addirittura 24 99 e quindi avete un uno slot condiviso e potete pagare davvero pochissimo cioè con soli 25 euro vi fate spotify premium per tutto l'anno in maniera assolutamente legale c'è anche youtube premium disney plus paramount plus e questi sono i servizi a disposizione logicamente io vi invito a leggere con calma e con attenzione che tra l'altro è tutto molto chiaro quello che c'è scritto sul sito di gamsgo tutte le condizioni come funziona fate anche un raffronto con le condizioni di utilizzo del servizio che andate ad utilizzare per esempio netflix e valutate voi la eventuale conflittualità eventuale conflittualità nelle condizioni di utilizzo del servizio gamsgo con quello netflix e viceversa dico eventuale perché fondamentalmente si tratta di andare a prendere degli spicchi di abbonamenti già creati da gamsgo non li create voi per quanto riguarda poi la condivisione degli account sappiamo che le piattaforme hanno alzato questa barriera al loro uso e consumo per loro esclusivo vantaggio ma per svantaggio dell'utente che però paga paga per poter utilizzare il servizio ed è quello che andiamo sostanzialmente a fare ci possono essere delle ripercussioni da parte delle piattaforme è estremamente difficile perché ci andrebbero a perdere utenti ma mal che vada si perde la possibilità di utilizzare il servizio ed è veramente improbabile però non si perde altro perché stiamo parlando di sistemi assolutamente 100% legali ed efficaci e sicuri e guardiamo invece go split go split funziona in maniera diversa non abbiamo infatti degli abbonamenti famiglia ma abbiamo degli abbonamenti individuali di cui si può attivare una condivisione e voi potete andare su go split sia per prendere uno spicchio di abbonamento già condiviso da qualcuno sia per condividere un abbonamento che già pagate voi quindi state pagando un abbonamento a da son non sfruttate la multiutenza quindi la visione contemporanea su un altro dispositivo da una rete diversa volete mettere a disposizione di qualcuno andate su go split e risparmiate subito vediamo subito infatti come funziona con da son ecco con da son puoi ritirare massimo 30 euro al mese tra l'altro indicato si prega di non utilizzare la vpn anche se vediamo che quando vi serve la vpn go split ha anche la vpn dove potete risparmiare massimo 30 euro al mese che andate ad incassare letteralmente perché perché a parte le commissioni ovviamente dipende dal piano di abbonamento che viene messo in condivisione in questo momento se andate su go split trovate per esempio la possibilità di avere un abbonamento a 30 euro e 35 al mese da parte di un utente che ha un'affidabilità di 100 che l'ha già messo a disposizione poi c'è anche un abbonamento da 25 85 come vedete la differenza è da son mensile o da son annuale e ci sono vari piani se volete mettere a disposizione anche altri piani se avete un piano di abbonamento diverso lo volete mettere a disposizione ci sarà chi vorrà accoglierlo infatti come potete vedere in questo momento ci sono cinque abbonamenti già aperti come condivisione ma guardate quanti sono stati già chiusi guardate quanti utenti si sono già associati per tramite go split e quindi l'affidabilità e la sicurezza e l'efficacia della piattaforma andare a sfruttare da son insieme anche senza conoscersi nel pieno rispetto delle regole perché è vero che da son dice che non è possibile condividere che non si deve condividere l'utenza ma consente la visione contemporanea su più dispositivi su reti diverse a patto che si sia residenti presso lo stesso domicilio certo questa è una limitazione che si sia residenti quindi nello stesso nello stesso immobile allo stesso indirizzo ma questa è una limitazione sulla quale da son non può non può intervenire perché anche due componenti della stessa famiglia possono non risiedere allo stesso indirizzo e allora non possono condividere l'account è chiaro che si tratta di una misura esagerata rispetto alla quale da son potrebbe intervenire disattivando gli account se a da son conviene potrebbe farlo ma quello che ci perde l'utente è nulla perché può creare un altro account e quindi fondamentalmente non ci sono problemi e c'è la garanzia della digo split ripeto poi per vostra garanzia e sicurezza leggete le condizioni di utilizzo e fatevi un'idea come potete vedere c'è anche now tv stessa cosa ci sono ovviamente vari prezzi in base al piano di abbonamento per esempio stefano sta condividendo cinema intrattenimento e sport ludo sta condividendo cinema e intrattenimento antonio lo stesso mentre abbiamo lili che condivide sport sport premium naturalmente come anche mauro e quindi i prezzi cambiano però questi sono gruppi pieni in questo momento c'è un solo gruppo aperto con un solo posto come vedete sono sempre gruppi da due ovviamente perché si tratta di multiutenza ma se avete da condividere qualche piano che in questo momento non è condiviso o anche lo stesso di stefano potete entrare e condividere e andare a ritirare fino a 17 euro al mese andare a ritirare fino a 17 euro al mese questo per quanto riguarda now tv ma c'è anche sky c'è incredibilmente anche sky per sky in questo momento è sky la condivisione sky è iniziata da poco su go split quindi come vedete c'è c'è ci sono ancora soltanto due offerte di cui una chiusa ma si possono ritirare fino a 22 euro e 50 al mese da go split grazie alla condivisione degli account e questo per quanto riguarda lo sport in particolare c'è anche mediaset infinity plus dove ci sono sicuramente più offerte vedete molte già chiuse e si parla proprio di 3 euro al mese anche perché in questo caso parliamo di tre posizioni tre posizioni e quindi diviso tre fondamentalmente con tutti quanti gli utenti di cui potete vedere l'affidabilità 70 100 80 eccetera ma ci sono anche altri servizi quindi nella categoria svod abbiamo detto c'è da zone now tv medz infinity sky ma anche espn apple tv plus eurosport abbiamo anche discovery plus disney plus apple one netflix anche qui con un funzionamento diverso infatti vedete che il prezzo è diverso rispetto a gansgo c'è anche ci sono davvero tantissimi servizi quindi vi invito a dare un'occhiata a quello che più utilizzate e più vi serve per la musica abbiamo spotify ma anche apple music anche youtube davvero amazon music anche qui i prezzi andiamo andando a vedere spotify fondamentalmente è un prezzo ecco non necessariamente standard perché abbiamo spotify famiglia che funziona come gansgo e vediamo che più o meno siamo sulla stessa cifra ma anche spotify duo e quindi ci sono solo due slot e si può risparmiare di meno però vedete che chi offre per esempio uno spotify famiglia va a ritirare anche 18 euro è chiaro che non ci si va a guadagnare semplicemente si ottiene il rimborso il rimborso di quello che si sarebbe speso senza sfruttarlo e guardate quante posizioni aperte ci sono per per il solo spotify poi abbiamo anche la sezione sicurezza dove ci sono tutte le vpn possibili che comunque potete utilizzare al di fuori poi della dell'utilizzo e del collegamento per esempio da sono come era indicato prima tramite go split poi ci sono vari software per la produttività e non solo software di abbonamenti di lettura compresi giornali quotidiani come gazzetta dello sport il cloud salute videogiochi tra cui anche playstation nintendo switch e xbox e learning e tanti altri servizi sicuramente arriveranno come tanti sono arrivati vi dicevo sky è arrivato da poco su go split quindi guardate quanti servizi ci sono davvero c'è l'imbarazzo della scelta c'è tutto quello che vi può servire quindi accedete dal secondo link in descrizione per go split utilizzate il servizio che volete acquistate l'abbonamento che più vi serve gli abbonamenti che più vi servono dopo aver letto e compreso con calma tutte quelle che sono le condizioni è spiegato benissimo anche per quanto riguarda le condizioni di utilizzo dei vari servizi in abbonamento non vi resta quindi che accedere ai link in descrizione dal primo link potete andare su gams go e avete il codice promo per avere subito il 5 per cento sull'abbonamento netflix dal secondo link potete andare su go split e avete tutti questi abbonamenti tutte queste piattaforme iniziate subito a risparmiare per gli abbonamenti per il calcio per gli abbonamenti per lo sport per quello di qui alla fine della stagione ma anche più avanti e per tutto quello che vi serve produttività svago sicurezza e altre piattaforme abbonamenti che già utilizzate che potete mettere a disposizione di altri utenti affidabili in maniera sicura tramite go split o abbonamenti che non avete vorreste avere date un'occhiata e più spesso andate andate di frequente sia su gams go che su go split perché arriveranno nuovi servizi e ci saranno nuovi slot per abbonamenti da condividere e io mi auguro proprio che tramite questo video per chi lo guarda appena uscito e per chi lo guarderà anche nei prossimi mesi nelle prossime settimane si potrà avere una maggiore offerta di appunto slot di abbonamento perché serve fondamentalmente questo ogni tanto ricordare che potete risparmiare se siete già abbonati mettendo a disposizione il vostro abbonamento legalmente in maniera efficace e sicura con chi invece non ce l'ha altrimenti ci sono solo persone che cercano l'abbonamento ma non lo trovano perché nessuno lo condivide c'è bisogno quindi di condivisione da entrambe le parti a beneficio di tutti tutti possiamo risparmiare guardando legalmente tutto quello che vogliamo guardare e usufruendo anche ascoltando e utilizzando vari servizi per tutto quello che ci occorre o ci piace grazie per la vostra attenzione sfruttate allora gams go e go split ci vediamo molto presto e per il calcio voglio un allenatore attenzione sfruttate allora 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 attenzione sfruttate allora